Quindi o viene più vicino oppure qualcuno mi fa la traduzione dall'italiano all'italiano perché purtroppo un po' sono sordo, la musica di ieri sera è stata una bella, una bella ma poi soprattutto perché veramente non c'è la cosiddetta spia qui e quindi... Ecco, sono vicino adesso, volevo dire che noi italiani siamo conosciuti come mammoni e allora io volevo sentire qualche parola di una persona che quando lei era piccolo diceva saluta, ringrazia, buongiorno, buonasera e poi finiva molte volte i suoi discorsi con dei proverbi volevo sentire qualcosa su questa persona Come carina lei, lei vuole ricordare mia madre, mia madre teneva moltissimo, grazie tante, grazie Mia madre, era una caffiera, una famiglia di origine napoletana, aveva la sua fissazione, l'educazione e quindi io devo essere grato a lei perché quello che ho fatto insomma un po' nella vita tranne rari casi insomma ho cercato sempre in quello che ho fatto di rispettare questo codice che è quello del gusto e di una certa educazione, mai aggredendo il pubblico oppure speculando con degli effetti antipatici, scherzando troppo sulla trasgressione, la mia trasgressione è sempre stata un po' diversa quella di fare l'altra radio, l'altra televisione, l'altro cinema ma non quella di fare la trasgressione che vedo adesso che è una televisione violenta, spesso cattiva contro le cose insomma di cattivo gusto, visse verbali questo lo devo appunto a mia madre che era fissata con l'educazione come dice lei e con i proverbi che sono stati poi li ho adottati anche nella mia vita, io la prendevo in giro ma in realtà poi questi proverbi avevano e hanno una ragione perché box populi, box dei è un proverbio latino ma vediamo cosa succede questo approfitto io ancora una domanda, ecco adesso ho detto insomma le trasgressioni, le litigie verbali che si vedono in televisione le sue trasmissioni sono sempre state diciamo un po' una satira possiamo dire così, quelli della notte ironizzava sui programmi salotto, i talk show, se dovesse fare una trasmissione domani in televisione su che cosa ironizzerebbe? beh io credo che la vera trasmissione che manca, adesso lo dico qui ma non lo dico e non lo dite in giro perché se no la fanno e rubano l'idea a me ma insomma non me la fastidio, ecco perché io ho fatto la satira con indietro tutta soprattutto, della televisione degli anni 80 quindi lo sponsor che diventava sempre più importante mi sono inventato il cacao meravigliato, i bambini che c'erano allora, venivano usati i bambini e io ho preso Marengolo vestito da bambino, le ragazze coccodei perché era la satira delle ragazze che allora si chiamavano le ragazze bingo, venivano usate e guardate nei programmi insomma ho cercato di fare tutta la satira degli anni 80 mi pare che non è stata fatta la satira degli anni 2000 la satira degli anni 2000, la vera satira, non l'imitazione di uno o di quell'altro personaggio e che bisognerebbe fare la satira della tv di oggi che è la satira dei talk show dei talk show rissaioli dove mettono naturalmente proprio deliberatamente sgarbi e che ne so, un altro che la pensa esattamente all'opposto suo e per farli litigare dove mettono una bella ragazza come la Parietti che è polemico ma lo dico perché sono amico, però questa è la tecnica con la quale oggi fanno i programmi adesso che invitiamo qua, mettiamo la Parietti così litiga con la, come si chiama, quella del fratello d'Italia e poi la televisione si fa così quindi bisognerebbe fare una bella trasmissione di satira della televisione di oggi che è una televisione insomma fatta per un po' per abbindolare il pubblico perché hanno studiato che quando si va sulla rissa, sul gossip, sul cattivo gusto eccetera aumenta il benedetto indice di ascolto Auditel del quale io non sono amico, non dico che sono nemico ma non sono certamente amico perché penso che è meglio piacere molto a un ristretto pubblico che non piacere soltanto al pubblico che vuole questo tipo di cose numeroso e casomai non piacere per niente perché poi noi subiamo certe trasmissioni le vediamo perché si devono vedere perché il giorno dopo ne parlano i giornali però le subiamo, non ce ne innamoriamo nel caso mio invece le mie trasmissioni erano seguite perché la gente andava proprio a sintonizzarsi su quelle trasmissioni perché c'era un'affezione che adesso non hanno più c'era l'indice di gradimento è una vecchia parola però oggi dovrebbe essere sostituito con un indice di affezione indice di stima a un programma indice di innamoramento per un programma non lo fanno, non lo fanno apposta perché sanno che i programmi più visti poi spesso sono anche odiati da gente che li subisce oppure non sono apprezzati e quindi è una cosa che prima o poi spero che qualcuno si decida a capire vediamo, speriamo nella nuova RAI